Un saluto e un abbracione dal vostro Italo FIFA Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo adesso di calcio mercato, si è concludo da poco la giornata calcistica con la vittoria del Milan sulla Roma, la vittoria della Juvenza sul Parma, la sconfitta del Napoli, la vittoria dell'Inter e la vittoria del Sassuolo che sorprendentemente è al secondo posto. Adesso parliamo di calcio mercato, allora lo svincolato Marchisio sembra che potrebbe finire alla Roma, c'è stato un incontro rieri tra Monci e il papà e pare che Marchisio potrebbe finire alla compagine giallorossa perché per completare il centrocampo, vista la patenza di Stroh, ma quindi sarebbe un rimpiazzo, comunque la Roma non è tanto convinta per le condizioni che ci ha Marchisio e ci ha avuto degli infortuni e non è ritornato più agli altri livelli, comunque potrebbe essere un ottimo rincazzo, a me francamente mi piacerebbe avere Marchisio, l'ho sempre stimato e mi piace come giocatore, ma la bomba più bomba delle bombe di Italo è che, ragazzi, a Roma vorrebbe cacciare Di Francesco, visti i risultati che sta a fare, ma che stanno a raccontare, e vorrebbe, avrebbe già contattato Antonio Conte, e secondo me Di Francesco è Di Francesco, Conte è pure Conte, comunque la situazione è che se arriva Conte, messo e non concesso che arrivi, quello vuole il giocatore, la società Roma che sta a vendere, ha smantellato la squadra, ha dato via Alisson, Angolan, Struttuman, non parliamo, e poi Conte gioca con la difesa, a te con questa difesa che ci ritroviamo noi, secondo me se arriva Conte, come si vocifera, pure dalla piazza, quello vuole top player, mica vuole il giocatore di basso profilo, comunque vedremo gli sviluppi, sarebbe un ottimo allenatore, uno vincente, comunque Di Francesco secondo me rimane alla Roma, comunque ragazzi, questo video termina qui, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, io penso uno dei due arriverà a Roma, uno tra Marchesco e Conte, se questo tipo di video ti piace, lascia un like e iscriviti al canale, io vi dico sempre ciao, miau, bau, belli, aghichi, ciao, ho detto ciao, ciao!